Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di QuelTaleale, eccoci qui di nuovo con Starfield Allora, riprendiamo da dove ci siamo lasciati, quindi dopo aver assaltato la nave e aver rubato il premio Adesso abbiamo opzionali, dobbiamo dare il premio alla tipa Oppure ce lo possiamo tenere? Non lo so in realtà, vediamo, vabbè io lo posso pure dare in realtà Non è simpaticissima, però Non lo so in realtà, non lo so in realtà 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 Vabbè, Rook, proprio vabbè Vabbè, hai un'azienda semplice Travi l'arprezione, è tutto È così facile, potrei aver ricevuto a Jazz' Model A per fare l'arprezione Allora, anche se ci perdiamo dei soldi, signori, però è troppo antipatica questa Eh, mi spiace, ma... Eh, scusate, quando uno fa troppo spirito, per carità, poi avrebbe fatto una... Penso che faranno una brutta fine, non lo so, noi stiamo a lavorare sotto copertura Spero che prima o poi tutti quanti facciano una brutta fine questi qua Eh, però, insomma, neanche la soddisfazione li voglio dare Se devo essere onesto Eh, scusate Ogni volta mi dimentico di salire su, di andare sull'abitacolo direttamente Maledizione Allora, allora, allora Vediamo un attimino adesso dov'è che ci dobbiamo sparaflesciare Sì, sì, Barrett, parleremo un'altra volta Molto per piacere che mi stai a fragancare i coglioni, eh Sempre in amicizia, un enorme rispetto e sportiveggianza, però, anche meno Va bene, ragazzi, voi mi raccomando che sempre lasciate like, commentate per supportare questa serie E voi pochi che la state seguendo E come sempre vi ricordo che in descrizione trovate il link ai Stan Gaming Se volete da un'occhiata trovate giochi sconto, abbonamenti, cose, un sacco di roba E anche un modo per supportarmi, quindi Voi risparmiate e supportate anche il canale Allora, allora, allora Dobbiamo andare ad Olympus Vediamo un po', vediamo un po', andiamo Ah, andiamo a fare Un recapino a Sì, però non mi fate fa sopra e sotto Vuoi vedere che questi qua vogliono pure il freno rubato Vabbè, mettiamo pure a loro, va bene tutto, ma Non che ci ricaviamo poi granché, in realtà Cioè, valeva, ma Fatto pratico Che poi ci pigli tutti sti gran soldoni Vediamo, vediamo che ci dicono pure questi In modo tale da Aggiornarci con la missione Dei Della flotta cremisi Poi, come detto, ragazzi, visto che Siete pochi pochi a seguirlo Penso che andremo con la Con la principale Penso proprio di sì Come detto, a malincuore Tacc Bene, non abbiamo ammazzato nessuno, eh Eh, le notizie viaggiano in fretta Sì, sì Eh, per dire Eh, non è che abbiamo trovato granché, però Eh Eh, purtroppo per farci dare cose Le credenziali abbiamo ridato le prove di quelli Deja vu La stessa cosa che hanno detto Quelli che hanno detto Quelli altri Ehm Oh No, che rallenta subito No, che non è che posso Sta a fare la spia Per 18 ore Oh, eh for years how the hell did the crimson fleet find out about that there must be an information leak somewhere sir it's the only thing that makes sense i'll see what i can find out fine this is what we're going to do you keep playing along and go after the com spike lieutenant toft and i will see what we can find out about bannock four perfect just stick with the plan and we'll see who gets to krix's legacy first eh eh stiamo a faa a corsa all'oro qua o ai crediti crediti in realtà però allora andiamo di nuovo sulla stava a faa sopra e sotto qua andiamo va magari poi prima di siamo arrivati comunque prima di andare con le missioni principali proviamo a fare un accampamentino da qualche parte anche se effettivamente mi servirebbero più cosi più livelli di esperienza per sbloccare altre cose però magari ci proviamo anche giusto per vederlo a friend on jimson nice one jazz i'll make the arrangements all right rook next stop new atlantis your connection is juan dayu she's got most of the premium uc smuggling routes locked down tight if you don't piss her off she should be able to sneak you past sy920 security just remember to count your fingers after you shake hands with her hmm sounds like a situation that calls for a fist bump unless she wants my knuckles too eeehm per sapere you should always expect trouble eh ma pure prima non è che stavano belli freschi eh even though she's one of our newer contacts you shouldn't have any problems dealing with her oh I sure hope so she might be our only crack at finding a decent decryption device once one gets you past the guard dogs it's gonna be on you to locate the comm spike according to the data we have it's in the prototype phase meaning there should only be a single device aboard the station basically you break it you bought it you better for your sake oh and one more thing sy920 is a uc military installation that means is guarded by heavily armed troops and we both know those idiots don't mess around if you intend to turn the place into a shooting gallery you might want to be sure you're hauling an arsenal because you're gonna need it va bene don't worry that's what I'd like to hear ok so I'm gonna arrange a meeting with Juan at K's place in the well in the meantime I'll make sure Jazz comes up with the solution to the electromagnetic atmosphere problem eh pure quello è un bel problemino quindi insomma ok you'll make sure more like get drunk while Jazz does all the hard work typical privileges of rank my darling we'll discuss it a little later and you get the hell out of here and don't come back without that calm spike in your cargo bay I'm gonna leave that up to you bro ah ok if you get into deep trouble and you think bringing her into the fold is gonna make the difference tell her whatever you want at some point Delgado's gonna be promising everyone their cut of Crix's legacy if you want him to stick with the fleet it's inevitable but until the money's within reach the less people that know the better e giusto per conoscere la persona we made contact with her about a year ago we were searching for a smuggling connection in UC space and her name kept popping up repeatedly so I decided to put her to the test not only did she pass but the results were off the charts made us both a ton of credits that was good enough for me beyond that I don't know much about her but hey as long as she keeps my gal bank account humming she can keep all the secrets she wants ok vabbè andiamo nel pozzo allora ma e anche qui ritorniamo alla nave ci sganciamo e poi andiamo va bene ok eccoci nel pozzo ecca signora aspetta che diamo pure una salvatina brava sai che mi chiamo gallisto tutti simpatici qua eh figurate si è lascia fai beh non esageriamo eh allora eeeh eeeh che mi mette a me in un barco. È il Jade Swan. E sicure che sei preparato per la lunga. Una volta che sei a 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 che sei. Solo ci sono detto, che sei a 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 che sei. Lascia fare, meglio non dirgli troppo. Ok, va bene. Allora. Andiamo alla nave, quindi ci accompagna lei, va bene. Vediamo se... Sarà affidabile, non lo so, eh. Non lo so. Questo Callisto deve sempre guidare lui, che deve avere tutto sotto controllo, come è giusto che sia. Però, a sto punto, se dobbiamo, se dobbiamo adattarci, ci adattiamo. Beh, però, bel mezzo, eh. Bel mezzo, abbastanza massiccio. Devo dire che... Ha il suo perché. Sì, sì, sì. Caruccio, caruccio. La nave pure purtroppo non credo sia costruire granché, visto che... Basta, fermo. Ehm, più che altro perché non... Anche lì ci servono altri livelli, quindi dobbiamo un attimino regolarci. Allora, dobbiamo salire, ma... Mi scende. Posso andare in giro un po', ma scusa. Sì, eh. Sono curioso di vedere la nave. Ti salve. Medici, te li prendo, che questi ci fanno... Oddio, quello sta... Questa sta appiccicata. Questa è la prossima, Mark. Aspetta, prima di proseguire di là... Sì, non la prendiamo... Se me le lascio... Sì, sì, fai, tranquilla, tranquilla. Fai ginnastica e fa bene attività fisica. Ci mancherebbe altro. Sono sempre fermi qua, su una nave, insomma. Ogni tanto bisogna sgranchirsi un po' le ossa. Eppure da rubacchia non c'è il granché, eh. Di qua? Scusi. Scusi. Allora, controllo. Adesso. Come in. Salve. Allora. Un po' di cose da sapere. Dica. Quando arriviamo al punto di vista, UC Militari ci saranno salendo. Devo fare la parola. Prendi che sei un pezzo di cargola, se hai bisogno. Tiè. Noi. Diciamo nulla e lasciamo i nostri capi. Scusi. Un pezzo di cargola può ancora avere personalità, però. Se avessi abbastanza. Allora. 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 Andiamo. Allora. 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 Non c'è nessun spettacolo, la fletta sicuramente è sicura. Puoi prendere il tempo per preparare, ma proprio non preoccupare il mio pilota, mentre volano. Non preoccuparti, Capitano. Spendendo la mia vita passando e cuciando gomme all'interno. Posso prendere un pocchio bantero. Mi sembra che mettete in una domanda per dubbio. Capitano, ritrovo la mia prima domanda. Per esempio, non mi piace anche gomme. Ha, notato. Prendiamoci l'interno. Prendiamoci l'interno. Salve. Ah, in realtà possiamo aspettare. Aspettiamo un'oretta, vediamo se arriviamo. Ancora no? Salve. Ma chiacchierà? Sono il pilota della Jade Swan. È una buona piazza. Non si tratta. Scranky. Excuse me. Dica. Dio scusa, scusa. Gratis. Va bene. Scusa, ma ti devo dire io dove andare o mi devo attenere al... No, per capire eh. Glielo dodi io. No. Cioè, dovrà lui. No. Cioè, dovrà lui. Intanto parliamo con Barrett. Adesso ho bisogno di questo. Esplorando la galassia con te per giorno, investigando le misteri e legali woe del mio lungo, morto. Scusa, Barrett, t'hanno interrotto da uno... Un salto spazio temporale. E... Sarà per un'altra volta, aspetta. Aspetta, aspetta, Barrett, ne riparliamo un'altra volta. Non fa mica piccola che fanno. Ok. Pensa se avevamo noi qualcosa di illegale e te la mettevamo qua dentro. Ah, aspetta, però. E... Ti dispiace se mi frega la roba tua? Oddio, a meno che non è roba nostra. Eh, non lo so. No, credo di no. No, perché quando vai da una nave all'altra ti trasporta tutto. Non vorrei che pure qua ci ha messo io. Però questa non è roba nostra, no? A questi te li tengo. Ti rilascio. Te li tieni. Fa come te pare. Questa vale pesicchia, però... Vabbè, va. Il nutriente te lo tieni tu. Ok. 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 Vabbè. se ne dovessi perdere. Ok. Vabbè, se me dovessi perdere. un intercom. I'll keep a channel open. Ok. Vabbè, lo stiamo pari. Ok. Ma se ne dovessi... We'll cross that bridge when we get there. Either way. For now get on that station and find that intercom. We'll talk more then. A rivederla. A rivederla. A rivederla. Vabbè, comunque alla fine ci sta. Siamo... Ormai nella flotta Kremi siamo abituati a... Avere a che fare con... Persone proprio educate. Quindi tutto sommato questa rientra nei... Nei ranghi. Dove devo passare? Scusa. Ah, ecco. Qua dobbiamo sempre uscire... In modo ordinato e composto. Scusi. Allora, vediamo se riusciamo a rubacchiare sto coso. Ma soprattutto se riusciamo a farlo senza creare il pane. Dove che... Dopo però Barretta, per piacere eh. Eh, io proprio là dove andavo. Proprio là devo andare. No, 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 no. Ho sbagliato. Eh, allora... Andiamo... Parla con Juan. Dove sta l'interfono? Qua? Si. Ma bene. Ma bene. Scusi. 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 Ok. Ehm... Vabbè pure media quindi se non c'è beccano... Che è quello poi il problema. Se c'è beccano. Allora... Allora... Donda sempre... Stealth in questo caso perché... Questa... La vogliamo levà per piacere. Perchè. Dai. Va garozzo. Seguiamo I mondotti Allora facciamo una cosa Questo non è il momento migliore Mi immagino che appunto tu l'abbia capito Non so come ma ce l'hai fatta Allora là è l'uniforme E qua è dove dobbiamo Possiamo Ah no pure qua la troviamo Pensavo dove dovevamo contattare la tipa Vediamo altre cose Se ci stanno Poi mi sa che l'uniforme sta qua di lato Ok In forma dei guardiani Immagino che me la dovrei mettere Ma Barrett hanno visto Allora ho dovuto rifare tutto Ok salve Salve Adesso Abbiamo la divisa E possiamo andare Il coglionito di Barrett Macello Che poi scusa In realtà mi hai fatto uscire da qua Ma io C'era un'altra zona C'era un'altra zona dove potevamo andare Ma Ma Zappate mi sono Non mi interessa No vabbè Scusa Ah no Come non detto Come non detto Tiè Oh mio Questo Questo Vabbè Non è necessario Ci stiamo Che fai Non lo prendi Prendiamo Per parlare Sorprendiamola Nei Nei Le informazioni sul Com Opzioni È stato In questo modo Oltre il comando Natara Non ha entrato Nel comando Semo Un comando Grazie Grazie Garo Gentilissimo Allora Vediamo Mentre Queste cose Ce le Prendiamo Che fa sempre comodo A cattare Cose Quello Quello Me devi Ah Vaffanculo Digipix Riprendiamo Già Che stiamo Allora Andiamo pure al computer Cognome Ehm Ok Ok vabbè Ce le abbiamo Scusa Posso Vedere pure le altre Magari Se ci servono Meno Mi spiccioliamo Tutti Si può Vediamo se c'è qualcosa Ah no E qua Cazzo Noi dobbiamo stare Dall'altro lato Ehm E scusa Allora perché mi fai entrare qua Se la poi ci serve pure la chiave Cioè proprio per fare una cosa da bullo Che gli è puntiamo le spalle Ah ok Aspetta Ma non valgono manco tutto sto Sto gran che Comunque vabbè Ehm Ok Ok Allora con quella Non ci parliamo Come detto Andiamo Salve caro Guarda Tiè Uy la madonna Aspetta Non ho letto Cioè ho letto Ma non mi ricordo Pensavo che glielo Dicesse in automatico Oddio Santo Che cazzo Allora siccome l'ha dato con questo AK 127 Guardia marina Ufficiale BQ PL Ehm Aspetta Guardia marina Ok Quindi AK Ragazzi è mazzo Ok Eh no effettivamente Non sapevo che Che divisa c'avevo Quindi sempre meglio Si si ce l'ho Ce l'ho Vai vai Ce n'era una AK Ma che cazzo Dici Ma vedi La Riproviamo Si ce l'ho No eh Aspetta Torno subito Salve Buongiorno Sono nuovo Ce l'ho Ce l'ho Io eh Non è Non è quello di prima Questo No eh Aspetta che Arrivederla Salve Buongiorno Mi chiamo Callisto Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Certo ci mancherebbe Altro Eh ma Scusa Sì sì Grazie caro Gentilissimo eh Ci mancherebbe Altro E poi Scusa Allora Namu Si può Qualcosa di Qualcosa di interessante Da rubacchiare A parte Dei Grady Stick Registri Vediamo se qua ci serve Qualcosa Apri porta Apri porta Ok Abbiamo aperto Stazione Progetti Progetti Utilizzazione Di sicurezza Ok Guardia marina Codice Utilizzazione Utilizzazione Ok 4 Fammi Vedete pure Posso leggere Altre cose 3 euro Ricevitore Estremamente Sensibile Creare il segno Della comunicazione Vabbè Si è quello Che serve A noi Progetto Approvato Ok E Abbiamo Sbloccato Sta porta Per qualcosa Di utile Per sapere Apri porta Spero che sia una scorciatoria Perché non stiamo creando del panico Saprei Val Credo invece che Stiamo creando del panico C'è da dire che All'atto pratico Non stiamo rubando niente Scusa Aia Sì Eh Eh Scusa Eh Ci mancherebbe altro Sì 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 Allora Posso Salve Ok Ok E Non vale Granché Andiamo va Vediamo se riusciamo A Ti pare il momento Barrett Ma te pare il momento Allora finiamo E che cos'è E Cerchiamo anche Parliamo con questa Vabbè vediamo Senza di me Senza di me Non vai da nessuna parte Sta figlia di puttana E E Io odio sempre di più questi Possiamo dirlo Allora Non so se devo andare Stelto ovunque Cioè vorrei capire un attimo se Ma qua non credo ci stanno Scari da sotto Ma posso far così Aspetta è nel mentre magari in occhiatina Ma che credi stick Che fa nobi Lasciata a piedi A sto punto Salve Cazzo Merda No hai preso una persona sbagliata No hai preso un attimo Eh no No Potevamo andarcene Tranquillamente Per prendere i cazzi di cosi Dal Da quella merda Di armadietti Ma ci stava questo seduto là Ma non è mica colpa mia No però no Non possiamo far così Aspetta Noi siamo No 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 Cioè non ci vuole niente A massacrarli tutti Signori ma Avere sulla coscienza questi A causa della flotta cremisi No No direi di no No Fuck Non ci vuole niente Eh no Non mi piace se dobbiamo fare una cosa del genere Il fatto è come cazzo faccio a prendermi la chiave da quello Intercepting transponder data in a half a system might be promising According to autocorrelation models Results in risk increased by a magnitude of Two But we won't tell Commander Natar What she doesn't know won't kill her I bet Wait Who are you Why are you in here Did you not see the sign C'ha fare Tanto per I've been studying decryption of all types for quite a long time Probably since before you took your first crab jump Signal protocol on the rat and symmetry Interleaving data extrapolation You name it I've lectured on it I've probably forgotten half of it But I definitely knew it once Don't you mean access to the ship Because the comm spike isn't a device It's a module Ok It's attached to a prototype In one of our docking ports We're still in the testing phase Running decryptions across a variety of signal types But the results so far have been very promising It can even interpolate signal data Lost in the retrieval It really is a wondrous technology Yes It's not quite cracking the Enigma code But it will give us a significant tactical advantage We'll be able to infer everything from battle plans To meal consumption Not that we'd care about that sort of thing Outside of the effects of diet on combat readiness And yes There are certain kinks to be worked out Without missing part in the occasional traumatic injury here and there But it's all part of the adventure Yes, it's not the destination But the journey that matters Particularly when the destination is Eh, sì, sì, efetivamente We've corrected the problem with the ship's life support systems And statistical models show a failure rate of less than 2% In short, I've requested a full squadron of these Brave and fearless Marines to be transferred to the station They all give the prototype a final run And provided there are minimal casualties We can present our findings to Mast Stoil the Calm Spike? Why? Who is this person? The dawg hang in though I mean thank you ocus theaky B Book evidence Why? Eh oddio Però così non possiamo prenderlo No Lo vediamo Grande No forse ci riusciamo il culo al stesso Eh signori Ma onestamente mi sto iniziando a Ad alterare con questi qua Tutti quanti fanno gli spiritosi Bulletti Eh a questo punto che ha listo Inizia a fare il suo Allora Eh va bene Dobbiamo andare lì ma da dove ci fa passare Qua Allora in linea teorica C'ho il permesso no E' molto teorica Quindi eventualmente Si può? Tesserino ce l'abbiamo Aspetta che Allora Crediti Nickel Adesso lo prendiamo Questo pure Questo vabbè vale abbastanza Cartucce le prendiamo Dai Dai eh Si Non Non adesso Aspetta che sto cascato sotto Già che ci siamo Recuperiamo qualcosa Permesso Permesso Mi sa che fine farà quella tipa Però Siccome non si è comportata proprio benissimo Signori Eh beh A sto punto Mica stiamo qua a gigioneggiare noi A riechi me Ah si è salvata la stronza Eh si Non l'ho avuto scelta dai Eh ma che colpa mia No no è così Ti sei data Va bene va bene Cioè li stiamo a mettere tutti contro Tutti gli altri Tirapiedi Di Delgado Eh ma chi se ne frega Ci manca lei Ciao caro Vabbè si Comunque Quindi Dai eh Aspetta posso rubare qualcosa Qua Allora A Delgado Jasmine Dice mi che non solo Broughto Il Comspike Ma un Prototype La mia nave Dov'è per sapere Ah ok Ma infatti Non stavo a parlare con te Comunque Yeah 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 Nice try Rook We know You didn't have a choice Juan gave us The full rundown Of your little Smash and grab Operation She's actually Pretty pissed In case you didn't notice Claims you blew a cover If Juan doesn't like How things have gone And she wants to bail On her share That's her problem Now On to the business At hand Jasmine Are you there Yep I'm here boss What's up How's it going I already have Two of my crew Tearing the ship apart From one end To the other Com spike Shouldn't be too tough To extract I'm looking forward To seeing what Those UC techs Have been up to Keep me posted All right That leaves Our electromagnetic Atmosphere problem And I think We've discovered A solution There's a corporation In the city of Neon Called Jenardine They're responsible For the massive Conduction grid That powers the city We get our hands On their electrical Absorption tech And Jasmine Swear she can tame To handle Banach 4 Hmm Scuspe sa bene Non è per sfiducia Però E allora è vero che lei può. Qualcosa informazione che hai bisogno, ho garantito che si può ottenere Estella è uno dei capitani più rilevati che abbiamo nella fletta Se voglio fare qualcosa di fatto, non c'è nulla di tipico Si è fatto, e dopo dopo, spettiamo il contatto Non, 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 non c'è nulla, non c'è nulla Non c'è nulla, non c'è nulla, ti farai tutto quello che ti chiede Seguire le instruzioni sulle lettera È valutante nella fletta Se tu fissi lì e perdere la contattazione, ti farai rispondere a me Tecnicamente, abbiamo già risposto a te, ma punto è takeno E se tu fai me qui, tu non farai la risposta che ho ricevuto Estella stai aspettando a Madame Sauvage's place Io direi non stai aspettando, ma probabilmente non stai aspettando Ma probabilmente non stai aspettando La ragazza piace la acqua Allora, disponibile su qualsiasi Ok, va bene Sì, sì Dobbiamo andare a fare a porto, eh Va bene E vabbè, quindi il Cosa che abbiamo sbloccato Aspetta, ho sbagliato stanza Possiamo montarlo anche sulle altre navi Poi andiamo a vedere effettivamente anche l'utilità Comunque, vabbè, damose Andiamo a fare Rapporto Allora, vediamo che ci dico Eh, vabbè, non c'è nessuno Ha visto Eh Ehm Ehm Ma perché Ehm 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 No Ehm Ehm M'l Giordano Ehm Ehm Ma Sì homo Ehm 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 La grida di conduzione? Questo è... bravo. Ma è in realtà possibile? È un'ottima tecnica di 80 anni. Scusate, signor. La grida di conduzione è come Neon genera la sua potenza. È essenzialmente adorbe l'alimentazione e convertirla a un'energia usabile. È necessario un ingegnista per modificare la tecnologia per capire Bannock-Forsi Anfield. È un ingegnista, come Jasmine Durand. È così. Informe dei contatti di Neon che la nostra operazione sarà arrivata nel futuro. Sì, signor. E prima di partire, voglio sapere che i vostri esforzi sono aiutare un'interesse tra i miei superiore. Sono finalmente iniziando a credere che possiamo prendere l'alimentazione del Crimson Fleet e fare amende per l'U.C.'s maltrice. È... Scusate. Ah, ok. Beh, parli più sostanziosi per noi, no? Scusa, eh. Giovanno. E che stiamo a fare? Ok. Eh, io immagino, sì, vabbè, a questa poi li dobbiamo dare rapporti tutti. Ma io prove... Prove... Oddio, non so se ce n'ho... Scusa. Sì, ma fino a ora non credo che avete arrestato granché gente, eh. Questa è una missione di undercover. Per la nostra sicurezza e la vostra, abbiamo bisogno di mantenere questi prigionieri fuori dalla scuola. Eccellente. Lasciatelo. E poi lo uploaderò in nostro database. Eh, poi vediamo... Allora... Sono un certo dipendente della camera che era a bordo della Siren of the Stars. Ok. Ah, non ce l'avevamo ancora le prove, allora. Al Da. C Eh no Fermo no Va bene Allora Sì cari Arrivederci Prima che ci riferma un'altra volta Barrett Per dirci le cose Noi dobbiamo andare su Neon Però signori mi sa che lo facciamo Nel prossimo appuntamento Visto che qua andiamo sempre per le lunghette Mi raccomando voi come sempre lasciate like e condividete Per supportare le serie del canale Lasciate anche un commentino tecnico tattico Noi ci vediamo alla prossima Allora ragazzi direttamente su Neon per andare a prendere Quel che ci serve E per accumulare energie elettriche Insomma Vediamo come riconvertire i fulmini in energia O magari farci da scudo quando arriviamo lì Dai ragazzi ci vediamo alla prossima Un saluto a tutti da Queltaleale